Con Vicenza mi sono trovato in una dimissione un po' particolare, nel senso che sono ritornato indietro negli anni sessanta, negli anni sessanta sembrava di stare a casa mia quando ti ho incontrato per la prima volta, diciamo così, a fargli fare questa parte straordinaria se vuoi, questa parte sinceramente, perché volevi farmi fare il DJ Basserotto, mi sembrava un po' irreale questa forma, hai capito? Ma finalmente poi sono riuscito tramite sempre te a fare quello che in parte io sarei, no? Sì, sì, sei proprio Gero Senese Vestito sempre dagli anni sessanta, comunque come per quello che io esco fuori, no? In poche parole, però speriamo di non vivere anche con me, capito? Quando lo farai davvero? No, no, non credo Grazie a tutti